I finanzieri del Comando Provinciale Capitolino hanno eseguito nelle province di Roma e Napoli un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone ed un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro, ovvero di beni riconducibili agli indagati, per oltre 320.000 euro per l'ipotesi di reato di usura e riciclaggio. Il provvedimento emesso dal GIP del locale tribunale costituisce l'epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite dal Nucleo della Polizia Economico-Finanziare di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali avrebbero effettuato prestiti di denaro a numerosi soggetti, tutti imprenditori o liberi professionisti in difficoltà economiche, applicando tassi di interessi annui variabili dal 50 al 120%. Il meccanismo usurario era principalmente fondato sull'utilizzo di assegni bancari, solitamente di importo non elevato, che gli indagati avrebbero fatto emettere alle presunte vittime senza l'indicazione del beneficiario. Gli assegni avevano la funzione sia di strumento di garanzia sul prestito erogato in contanti, sia di mezzo di restituzione del debito stesso. Al termine delle investigazioni è stato possibile ricostruire un grave quadro indiziario in merito ai prestiti e ai tassi surari di ingenti entità, i cui proventi sarebbero stati in parte riciclati tramite il loro versamento su conti correnti di un'attività imprenditoriale di lavanderia gestita da uno degli indagati.